Voltiamo pagina, si chiama Montagna Veneta 2020 e l'accordo firmato a Pedavena per garantire una corsia privilegiata per la montagna veneta e consentire così l'accesso agevolato ai finanziamenti europei. Vediamo. Per la prima volta i Gal del Veneto, ovvero i gruppi di azione locale che da 20 anni operano per lo sviluppo della montagna, sono tutti assieme. L'Alto Bellunese, il Baldo Lessini, la montagna Vicentina e il Prealpi e Dolomiti si sono dati appuntamento a Pedavena per firmare un protocollo d'intesa. Si chiama Montagna Veneta 2020 e come recita lo slogan è un patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di tutte le zone montane della nostra regione. Significa superare le logiche di recriminazione che la montagna ha dimostrato in questi anni per arrivare ad essere veramente degli interlocutori tutti insieme perché, ripeto, le tematiche della montagna sono trasversali. Dall'altra parte del tavolo c'è la Regione Veneto, firma taglia di un patto che punta a raggiungere parametri di risparmio, ma soprattutto di efficienza, evitando inutili doppioni nella gestione delle risorse destinate a questo territorio. Significa anche far vivere meglio i nostri cittadini, non fare confusione amministrativa e burocratica e significa anche, lo voglio dire con grande voce, dare all'Unione Europea un rendiconto vero. La gente dei 158 comuni montani vedrà gli effetti di Montagna Veneta 2020 già nel giro di un paio d'anni. Sarà seguito un programma di priorità di investimento che punta a ridurre il divario con la cugina ricca, la montagna trentina.